Buonasera popolo di Facebook, Youtube, Twitter, Messenger e Skype, Filippo Anche Isca. Buonasera popolo. Allora, abbiamo un'edizione straordinaria. Vi ricordate che ci avete visto sempre a cantare, a mangiare, a ballare, divertiti? Stasera no, oggi no. Oggi è una giornata speciale. Ragazzi, qui al litro, tritone, da Ischitella alla famiglia Moleo Esposito. Ah, eccoli qui. Ragazzi, c'è qui il nostro Tonitoni vuol dire qualcosa al litro, tritone? No, ok. Il nostro Tonino 2 vuol dire qualcosa al litro, tritone, come ti trovi? Già sei stato, è la prima volta. Non si sta bene qua. Non si sta bene al litro, tritone, non si sta bene. Per la nostra Semi c'è Semi 2, vai. Semi, cosa vuol dire a Semi? Ma qui, amma, c'è qualcosa. Un bacione affortunato, glielo vogliamo salutare? Ok. Anche il nostro Ciro. Ciro, Ciro. Ciro, facci vedere la nuova maglia. Con il collo nero dietro, le braccia e la fata più a più. Vieni qua. Non mi ha un po' stanno. Non mi ha un po' stanno. Non mi ha un po' stanno. Ah, Ciro. Ciro non ha un po' stanno. Va bene. No, questo è Ciro, mio fratello. Voi provare la calda. E qui c'è il nostro Tonino 2. Tonino 2 vuol dire qualcosa al popolo di Fese? Qui al litro, tritone. Un bel litro. Non mi ha un po' stanno. Non ci voglio. No, ci viene l'insalazione. No, ci andiamo a fare il primo bacio. Allora, popolo, noi ce ne andiamo a mare. Io e Tonino, un bel tuffetto e torniamo. No, c'è Nando. Le ragazze non si vogliono far vedere. Nando, saluta solo Nando. Ok, un bacio. Allora, noi andiamo a fare un tuffetto a mare. Ce ne andiamo. Ci vediamo dopo? A dopo, Nino. A dopo, a dopo. Ok, ciao. Possiamo venire? A dopo. Possiamo venire? Datemi la prova e se non posso partire con le telecamere. No, a dopo. Dopo, dopo. Salutiamo i primi maci. Ciao, raga, salutiamo. Facci un biancala. Facci un biancala. Ciao, ciao. Ok. Ciao, ciao.